salve ben trovati a questo appuntamento che chiude la settimana borsistica è stato un venerdì decisamente positivo quello che è andato in scena oggi con una pioggia di acquisti un po su tutti i listini continentali uno dei fattori principali lo citiamo spessissimo ovvero la fed questa volta a prevalere è la convinzione che appunto la federal reserve non abbia più di tanto margine per poter applicare misure troppo aggressive per lo meno nel prossimo futuro il fatto che poi il prezzo del gas sia ulteriormente diminuito di certo non ha peggiorato le cose dunque il fuzzimib è risalito di quasi tre punti percentuali ancora non basta come vedete per toccare i 22 mila punti ma per un indice di borsa è un balzo notevolissimo balzo che è ancora maggiore nel caso del dax con l'indice teutonico chi chiude a più 3 e 33 sopra in questo caso a quota 13 mila le variazioni a wall street sono senz'altro positive ma più lievi rispetto a quelle che abbiamo visto adesso sia il nasdaq che il dow jones infatti superano comunque discretamente il più uno a piazza affari exor la holding della famiglia agnelli vola sopra il più 6 per cento riconquistando i 62 euro in rally anche cnh industrial che supera i 4 punti e mezzo spunti favorevoli sui bancari tra i migliori del fuzzimib banco bpm a più 5 e 20 seguono banca mediolanum e fineco a ridosso del più 4 il 50 per cento sul listino principale solo leonardo meno 0,03 fa registrare il segno meno tuttavia come vediamo il prezzo di chiusura è praticamente invariato al valore di ieri alla chiusura di ieri tra i titoli invece a minore capitalizzazione segnaliamo i cali di saras società leader per la raffinazione del petrolio e produzione di energia elettrica e per il settore risparmio aedes riprende a salire la moneta unica euro dollaro che ormai oscilla sulla parità già da svariati giorni nel pomeriggio ha avuto una buona spinta rialzista decisamente positivi anche gli altri cambi con euro sterlina che rispetto a ieri sera guadagna oltre mezzo punto percentuale ed euro yen che dopo quasi un mese e mezzo torna sopra i 140 ed ora non mi resta che passare la parola al trader filippo giannini per il suo contributo salve a tutti per le interviste di trader link ospite di oggi filippo giannini di trading facile punto eo daremo con lui uno sguardo al dax perché ci sono delle interessanti novità in arrivo lascio a te la parola e tutte le considerazioni del caso sì innanzitutto ciao rossana ben trovata sì oggi giornata di importanti dati macro sul sul comparto azionario ci sono i non far payroll quindi importanti movimenti attesi sui listini di wall street che inevitabilmente comunque avranno ripercussioni anche sul sull'azionario europeo occhio perché nuovi posti di lavoro da quindi dati migliori del previsto potrebbero essere letti negativamente dai mercati in questo momento poiché fuori ieri di una stretta più aggressiva da parte della fed ricordiamo poi che lunedì wall street sarà chiusa per il labor day quindi anche sul dax lunedì ci aspettiamo volumi ridotti soprattutto nel pomeriggio piccola nota sul labor day poiché generalmente dopo questa data riparte l'attività dei grandi fondi delle principali banche d'affari quindi già a partire da martedì prossimo ci aspettiamo di vedere volumi in aumento per quanto riguarda la fase attuale sul dax beh è un momento dove gli equilibri cambiano repentinamente fino a ieri c'era una generale debolezza mercato che sconta chiaramente la nuova stretta che ci sarà da parte delle banche centrali per combattere l'inflazione occhio però perché nella giornata di ieri il dax ma in generale un po tutti i principali indici hanno disegnato una candela resistiva quindi un hammer qui sul grafico giornaliero del dax non la vediamo perché la close si ferma alla chiusura del cash quindi alle 17 e 30 però c'è stato un importante recupero importante la candela resistiva sul dax perché è stata difesa quota 12.750 punti la cui rottura avrebbe portato probabilmente ad un ritest dei minimi annuali quindi dal mio punto di vista possibile in questo momento un rimbalzo rimbalzo che potrà estendersi fino a quest'area area 13.000 all'area compresa tra 13.000 e tra 13.150 punti qui poi bisognerà attendere ulteriori segnali del grafico e ulteriori segnali dal grafico anche della volatilità implicita che ieri insomma è stata protagonista appunto di uno storno nella seconda parte di sessione che ha di fatto alimentato questo rally chiaro che sul grafico giornaliero comanda ancora questa engulfing ribassista del 26 agosto scorso e quindi per supportare un più ampio recupero sarà necessario che il mercato riveda livelli di chiusura almeno superiori a quota 13.350 punti perfetto Filippo io ti ringrazio per tutte le informazioni e con te rimando l'appuntamento alla prossima settimana grazie a te Rossana arrivederci a tutti con quest'ultima nota termina il nostro appuntamento da parte nostra un saluto un arrivederci e un augurio di buon fine settimana grazie